Abbandona la tua tristezza 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 accenno di quello che poi sono le grandi vincite, perché voi sapete che con me, non con me, con Morris si vince da tantissimi mesi estazione dopo estazione e quando c'è un po' di fermo sono il primo a dirlo questa è stata una settimana morta dove sono usciti i numeri delle scorse dirette, bambesvenga ambi, terni, ambate previsioni regalate in diretta di tutto e di più e abbiamo sempre, sempre estazione dopo estazione vinto e stravinto io dico sempre che qua in Sicilia non ci sono migliaia di persone ma siamo pochi, se voi vedete in ognuno di noi che compare nelle emittenti nostre siciliane, non trovate 50.000 numeri, ma trovate un numero di telefono ed è sempre quello per dire il mio 392 e il mio cellulare che ormai conoscete da tantissimi anni non trovate 25 numeri dove trovate un registrato, poi c'è un altro codice che dovete fare un altro registrato non ci sono codici dietro codici 50.000 numeri di telefono per prendere 50.000 previsioni io dico che qua in Sicilia abbiamo una differenza rispetto a tutta l'Italia che abbiamo voglia di lavorare un solo codice e ogni volta lavoriamo sempre con quello e questo perché effettivamente dopo tanti anni il personaggio va, il personaggio tira e quindi non abbiamo bisogno di avere 50.000 numeri e per ogni quaterno, per ogni interno c'è un numero diverso da fare la gente si impazzisce io sentivo una signora che mi ha detto Cristiano ho chiamato 50 volte lo stesso 100 perché ogni previsione è in un numero diverso quindi devo fare diversi numeri per poter prendermi tutte le previsioni che poi sono tantissime e non sempre danno il riscontro giusto bene, allora una telefonata ad un codice normale non costa nulla da me fra l'altro sono dei cellulari non sono codici audio tra il codice a pagamento quindi un solo numero una sola telefonata i numeri sono uguali per tutti non trovate 20 previsioni ma trovate una in questo momento io sto gridando il terno che paga tra poche ore e una quaterna sono solo due previsioni nulla di che quindi chi vuole questa previsione deve chiamare ora in questo momento Morris e i telefoni per darvi la previsione per non servire il sogno e per farvi il punto di fortuna ma adesso solo le prime 100 persone che entreranno in linea con questo cosa vi voglio dire mi assento per un minutino e tra poco incominciamo con le vostre telefonate tra poco e poi Opa!